Musica Sequestro da 2 milioni di euro a 3 imprenditori collusi con Cosa Nostra Sparatorio nel quartiere Zen di Palermo, arrestato un 22enne Confermato lo sciopero dei dipendenti regionali contro la finanziaria Buonasera, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews Oggi è martedì 17 marzo Mafia e affari tra Palermo e Carini Sequestro da 2 milioni di euro a 3 imprenditori collusi con Cosa Nostra Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo Ha sequestrato 5 aziende, di cui 2 operanti nel settore delle costruzioni 2 nella fabbricazione di impianti di condizionamento ed un'attività di ristorazione 10 fabbricati ad uso commerciale, un immobile ad uso abitativo Tutti ubicati tra Palermo e Carini Ed ancora 4 automezzi, 2 imbarcazioni, una moto d'acqua E disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro Il sequestro nasce in esecuzione di tre distinti provvedimenti emessi dal Tribunale di Palermo A carico di tre soggetti, tutti palermitani Il primo è un 39enne, si chiama Antonino Saranella Ed è un ex dipendente di una cooperativa che fornisce servizi sociali Arrestato nel 2013 nell'ambito dell'operazione Alexander Con l'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso In quanto ritenuto soggetto contiguo alla famiglia mafiosa di Palermo Porta Nuova Per la quale si occupava delle attività estorsive e di altri reati contro il patrimonio Il secondo soggetto è Gianfranco Cutrera, 48enne Arrestato nel 2012 per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso In concorso con altri soggetti Ultimo coinvolto è un imprenditore quarantenne, Gianfiero Specchiarello Arrestato nel 2011 con l'accusa di trasferimento fraudolento di valori E reimpiego di capitali illeciti con l'aggravante di aver favorito Cosa Nostra In particolare la sua azienda sarebbe stata finanziata con proventi illeciti E beni per più di 200.000 euro sono stati sequestrati e confiscati Dalla dia di Catania ad un esponente del clan catanese dei Cappello I beni, un'azienda che opera nel settore del commercio di articoli Per uso domestico e un immobile sono riconducibili a Giovanni Catanzaro 50 anni, originario di Melso in provincia di Milano Le indagini hanno evidenziato la sproporzione tra quanto posseduto E redditi dichiarati dall'uomo e dai suoi familiari Sparatoria nel quartiere Zen di Palermo Tra la polizia e due giovani sospetti che gli agenti stavano seguendo Per alcuni è certamente arrestato un 22enne che viveva nel campo nomadi della favorita Sparatoria ieri nel quartiere Zen di Palermo Tra la polizia e due giovani sospetti che gli agenti di una volante Stavano seguendo nei pressi della Marinella vicino a Tommaso Natale Per effettuare alcuni accertamenti Secondo una prima ricostruzione i due uomini si trovavano a bordo di una Hyundai grigio metallizzato E sono fuggiti all'alt della polizia L'auto sulla quale viaggiavano è arrivata fino allo Zen Venne inseguita da una volante a sirene spiegate E si è fermata soltanto una volta giunta in via Rochi Marciano Uno dei due occupanti è dunque sceso sparando contro i poliziotti E farendone uno colpito di striscio ad un braccio Mentre uno dei due malviventi è stato ferito ad una gamba A quel punto i due sono fuggiti Uno è scappato a bordo dell'auto L'altro invece a piedi Ma dopo qualche ora la polizia è riuscita ad intercettare ed arrestare un giovane Rom Perché è ritenuto uno dei responsabili della sparatoria Si tratta di Robert Milankovic, 22 anni Un altro giovane individuato in serata e condotto negli uffici della squadra mobile E' stato rilasciato dopo diversi accertamenti Milankovic dovrà rispondere di tentato omicidio, ricettazione, danneggiamento e resistenza pubblico ufficiale Sarà ora il GIP del tribunale a convalidare o meno l'arresto del ragazzo che viveva nel campo nomadi della favorita Gli investigatori non escludono che la macchina fuggita all'alt sia stata utilizzata per compiere furti e rapine Dopo l'arresto di Roberto Elg, Confese Accenti Palermo chiede la rinomina di tutti i vertici della commissione camerale Attraverso l'invio di un commissario Ascoltiamo il presidente Mario Attinasi Queste cose le diciamo, perché le vediamo dall'alto Non siamo all'interno del consiglio camerale Nemmeno della giunta, che abbiamo rappresentanti Quindi siamo al di sopra di ogni tipo di conflitto E quindi proprio per questo, diciamo, a parte le dimissioni Chiediamo due cose importantissime La prima è quella di un commissario che subito, in termini brevissimi, rinnovi tutti gli organismi Attraverso quello che, diciamo, dice Attraverso appunto quello che la legge permette al commissario La seconda cosa che chiediamo Nessuna interventà a tutti coloro che andranno in camere di commercio A vuoto l'ennesimo vertice fra Crocetta e sindacati Confermato per venerdì prossimo lo sciopero dei dipendenti regionali contro la finanziaria Confermato lo sciopero dei dipendenti della regione per venerdì prossimo Ancora una volta il vertice tra il governatore Crocetta e i sindacati è finito con un nulla di fatto Troppo lontane le posizioni sulle norme della manovra finanziaria Sui permessi sindacali, mobilità, prepensionamenti, riduzione del salario accessorio Ed equiparazione del trattamento pensionistico a quello degli statali Crocetta aveva tentato una mediazione aprendo alla richiesta dei sindacati Di stralciare le norme sui regionali per affrontarle in un testo organico da concertare Ma bloccare il tentativo è stato l'assessore all'economia Alessandro Baccei Crocetta l'ha chiamato al telefono davanti alla delegazione sindacale Baccei ha risposto con un secco non se ne parla proprio Dice Michele Palazzotto dell'FP CGL Abbiamo assistito a una scena incredibile Il presidente Crocetta e l'assessore Baccei hanno fatto il gioco del buono e del cattivo La nostra protesta continua La norma di maggiore peso equipara dal 2016 le pensioni regionali a quelle degli statali Eliminando perché ancora ne usufruiva la quota di assegno Che si calcola col più vantaggioso metodo retributivo Tarato sull'ultima busta paga e non sui contributi versati È una misura che riguarda i 7.500 dipendenti assunti prima del 1986 Che non erano stati colpiti dai tagli del 2003 Coinvolti anche i dipendenti di istituti regionali d'arte, professionali, scuole materne e sussidiarie La perdita sarà del 20%, mediamente 600 euro lord al mese Ma se questo personale opterà per il prepensionamento perderà solo la metà Il risparmio frutto dell'equiparazione al sistema statale non è stato calcolato Ma è stimato fra i 50 e 100 milioni all'anno Servizio idrico A mezzogiorno sono scaduti i termini I sindacati confidano nell'affidamento ad Amap 202 lavoratori di APS a rischio licenziamento Alta tensione tra i 202 lavoratori di APS in attesa da un momento all'altro di un possibile licenziamento A mezzogiorno è scaduto l'affitto del ramo di aziende La curatela fallimentare, come ha manifestato in una lettera, è intenzionata a licenziare il personale a chiudere l'azienda Confidiamo che all'ultimo secondo la soluzione per la prosecuzione del servizio e il mantenimento dei 202 posti di lavoro si trovi Dichiarano in allarme i segretari dei sindacati di categoria di CGL, CIS, UGL e CISAL La soluzione immediata da percorrere è il passaggio del servizio e dei lavoratori ad Amap, sostengono i sindacati I comuni continuano a fare presente che non sono in grado di svolgere il servizio da soli E quasi tutti hanno già deliberato l'affidamento delle reti ad Amap Ieri gli enti locali, con una nota esplicativa, hanno chiarito le modalità del passaggio della gestione del servizio e della provvista economica dai comuni ad Amap Il dato è che se a mezzogiorno la società dovesse chiudere, il personale sarà licenziato e i comuni dovranno arrangiarsi da soli La proposta, aggiunta nelle ultime ore da Onda Energia, società che gestisce a Siracusa servizi energetici Disponibile ad occuparsi del servizio e ad assumere una quota dei lavoratori, addestato, riferiscono i sindacati, non poche perplessità E' stato spento dei vigi del fuoco solo verso mezzanotte dopo diverse ore il rogo che ieri ha distrutto il magazzino del Lido Nettuno In Viale dei Saraceni, a Isola delle Femmine, le fiamme hanno danneggiato decine di cabine che si trovavano accatastate all'interno E che dovevano essere montate sulla battigia per la prossima stagione estiva Indagini sono condotte dai carabinieri di Carini che non escludono alcuna pista Prende il via oggi la seconda edizione del progetto Verde come le alghe, Blu come il mare, che si concluderà nel mese di giugno La soprintendenza del mare presenta ai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale civico di Palermo Le attività di ricerca archeologica subacquea e le ricchezze naturali del mare Anche questa seconda edizione ideata dalla soprintendenza e dalle insegnanti della scuola in ospedale Istituto Comprensivo Nuccio di Palermo vede il coinvolgimento delle due associazioni di volontariato che operano all'interno del reparto Spia e Astli Gli alunni del liceo classico scaduto di Bagheria si sono cimentati nella simulazione di una seduta del Parlamento europeo L'iniziativa nasce nell'ambito del progetto MEP, Modern European Parliament Che punta a istruire i giovani sulle tematiche che riguardano l'Europa, le interviste Il MEP nasce da noi nel 2004 e di anno in anno va sempre migliorando Quest'anno l'abbiamo definito una palestra di democrazia Perché attraverso il confronto con gli altri che avviene con le idee, con le argomentazioni Vogliamo raggiungere che loro crescano consapevolmente e di appartenere all'Europa È un esercizio di democrazia quindi il nostro scopo ultimo è il confronto Il confronto sulle tematiche che sono di estrema attualità Tanto è vero che per noi, per loro delegati e per noi presidenti Non è importante la quantità degli interventi ma è più importante la qualità È più importante che i delegati partecipino e che scambino fra loro le proprie idee Il liceo come finalità ha proprio quello della formazione del cittadino E questo progetto che è il fiore all'occhiello proprio del liceo MEP come modello di Parlamento europeo che i ragazzi devono simulare È importante perché fa effettivamente sviluppare la coscienza di quelle che sono le problematiche Che cittadini adulti sono chiamati ad affrontare Che rappresentanti parlamentari europei dovrebbero portare in Parlamento E i ragazzi per la loro sensibilità e preparazione sono messi in gioco proprio per dare una loro risposta Quindi a livello progettuale il liceo lavora per preparare questi ragazzi Che devono essere cittadini migliori di noi Non c'è formazione senza cultura, senza mettersi in gioco Quindi nella preparazione, nel confronto Perché questa è proprio una prova di democrazia È sempre a Bagheria una mostra interamente dedicata al bicentenario dell'arma dei carabinieri Vediamo Tre mesi fa è sorta questa idea anche da parte del dottor Cento Del maestro Enzo Di Liberto Di celebrare in un modo particolarmente forte il bicentenario dell'arma dei carabinieri Ho colto io la proposta soprattutto nella prospettiva della legalità Nella prospettiva del rispetto dei tutori dell'ordine pubblico Tutte le forze dell'ordine Perché in un momento di crisi molto forte In un momento di dispersione In un momento particolarmente brutto che sta per vivere nel territorio in generale Ma soprattutto nella nostra Bagheria Ho voluto proprio cogliere questa iniziativa Per dare una spinta propulsitire Una dimensione molto forte Perché Bagheria potesse ritornare Nei ragazzi, nei giovani, nei bambini A riscoprire il valore della legalità Il valore di riappropriarsi delle cose belle del nostro territorio Ma questa idea è venuta da parte mia Perché io ne avevo visto una fatta a Palermo Un paio d'anni fa Posso dire veramente che è stata una rassegna meravigliosa E quindi siccome io faccio parte dell'Associazione Nazionale Della sezione di Villa Abate Con il dottore Cento Ho proposto questa manifestazione su Bagheria Quando è visitabile la mostra? Tutti i giorni, sino a domenica Ed è tutto, grazie per essere stati con noi Arrivederci alle prossime edizioni Grazie a tutti